troppo terapia e guardate badate bene non mi riferisco solo ed esclusivamente ai nostri avversari tirapiedi parlo anche di noi milanisti perché oggi tutta la giornata ho sentito messaggi sono preoccupato di là di qua messaggi che mi sono arrivati messaggi che ho letto oggi abbiamo fatto questo oggi la stiamo snobbando ho paura per la partita di stasera queste queste sono tutte queste sono tutte energie negative queste sono tutte energie negative che noi influenziamo andiamo mandiamo sulla squadra io credo a queste cose non vi dovete rompere i coglioni con queste cazzo di cose ogni volta se avete queste cazzo di sensazioni tenetevele per voi in anzetta trallo pitt che portate sfiga cazzo positività pensate positivo siamo il milan stiamo bene giochiamo bene creiamo occasioni su occasioni su occasioni che cazzo avete nella testa che vi fate i problemi da soli vi fate queste sono partite stregate ragazzi oggi abbiamo preso un pareggio e prendiamocelo il pareggio ok perché queste sono partite che sono che che vanno così vanno vanno così cioè io non ho mai visto in vita mia colpire due incroci dei pali da una parte e dall'altra sulla stessa azione due incroci dei pali da una parte e dall'altra da una parte e dall'altra due incroci dei pali e poi ancora una cazzo di punizione palo di acancia lanoglu e poi acancia lanoglu di nuovo il calcio di il tiro che va sulla traversa abbiamo colpito quattro legni quattro legni abbiamo colpito ci hanno annullato un gol sul filo del fuorigioco su castiglieco una volta che finalmente stavano ancora sveglia le bambine e potevo gridare come un pazzo potevo gridare e ho gridato come un pazzo e me l'hanno annullato il gol così non mi venite a rompere i coglioni gli juventini che dite è morata nell'annullato il gol per l'unghia è morata sta per il capello è morata morata ucazza i gol li annullano a tutti il fuorigioco è fuorigioco o è fuorigioco o non è fuorigioco si pezzo sta cazzo di linee si vede se è fuorigioco o non è fuorigioco quanti avevo uscito il fuorigioco di castiglieco c'è stavo in fuorigioco orecchiene catena e non stavo in fuorigioco così oggi quelli che dicono questo fa solamente casciara e c'è mafe sopra il canale youtube di uno che guarda le partite l'ha messa a candetta mafe o è tutto e deficiente non ti ho risposto perché aspettavo questo momento aspettavo questo momento se vuoi sentire il giornalista parlare seriamente così seduto con la cravatta a piccola televisione a chiamandola a cazzo della televisione se vedi youtube senti il gas time di sotto scritto va bene? se non andessi non a vedere la partita a vedere il sotto scritto che ha un grande gas perché questo canale è il mio canale e faccio quello che cazzo voglio questa partita da merda questa squadra da merda la cosa che odio di più di questa partita pareggiare dare i punti a liberani quello non può fare l'allenatore come cazzo ha fatto questo a prendere i punti oggi io non lo so non lo so io non lo so il primo tempo avremmo dovuto stare 10 a 1 10 a 1 il primo tempo 4 legni, gol annullato, occasioni, occasioni, occasioni hanno riuscito a fare 2 a 0 sull'unico contropiede fatto questi hanno fatto non due tiri ma proprio si sono affacciati due volte si sono affacciati due volte davanti alla porta hanno fatto due gol due volte due cioè perdere oggi sarebbe stata una cosa mai vista per fortuna ci ha pensato Teo Hernandez un Teo Hernandez devastante oggi devastante oggi non c'è nessuno che ho tanti contro a fare la calcia non c'è nessuno non c'è nessuno ma non ho letto gol di Castiglieco che ho tanti a fare la calcia e questo è l'ingrocio della pelle di Brahim Dia tu tanti a ma vabbè non va niente non va niente non va niente non va niente che altro dobbiamo dire ragazzi ci gira tutto male ci è girato tutto male oggi la squadra aveva già le assenze di Kier di Zlatan Ibrahimović di Alexis Selmekers abbiamo alla fine recuperato Benazer Benazer si è fatto male questo per dirla tutta a quelli che ogni volta mi vengono cercano di affrettare i tempi ragazzi ragazzi i giocatori devono giocare a pallone se non stanno bene in campo non ci devono andare evidentemente Benazer bene non stava perché si è fatto di nuovo male muscolarmente e adesso sicuramente non lo vediamo fino dopo la sosta questo è poco ma sicuro questo è poco ma sicuro quindi Benazer ce lo siamo dimenticati si va ad aggiungere all'infortunato che ci abbiamo si è fatto male gabbia dopo due minuti dopo due minuti si è fatto male gabbia avevo già capito tutto come andava la serata anche se Carlo Lu quando è entrato è stato straordinario qua mi sa che abbiamo trovato un altro centrale super affidabile partite incredibile di Carlo Lu incredibile di Carlo Lu questo è veramente un giocatore l'altro giorno abbiamo visto una partita con lo Spartapraga volevo aspettare perché ovviamente gli avversari erano quelli che erano e giocò benissimo ma non mi sono sbilanciato oggi è stata una partita incredibile di Carlo Lu non ha sbagliato un intervento il gol del 2 a 0 non l'abbiamo preso certo per colpa sua perché stava marcando Cornelius non è che questo Cristiano è stato sdoppiato Kurti ci arrivava dal centrocampo evidentemente c'era qualcuno che doveva seguirlo non era certo colpa sua che altro dire un Rebic disastroso adesso mi sto iniziando un piccolo bello detto alla nostra perché non è possibile non è possibile aspettare tutto questo tempo questo Cristiano questo è un cazzo di gomito che ti sei fatto male un cazzo di gomito che ti sei fatto male si può sapere che cazzo è ma sono due mesi che avevo camminati in suo campo ma è possibile questo fatto quando la team mi aspettate ancora poi vado una partita a bordo questo Cristiano e ha spinto una volta e ha spinto una volta tre volte quattro partiti cinque partiti e non si allena bene e non si può allenare ancora e quando si allena ancora così e non riesce a fare i movimenti e allora c'è cazzo si fa giocare live che live ma ma mai e c'è cazzo e quando cazzo va a tornare su Cristiano ha fatto una partita buona io non è buona voglio chiare una due tiri in porta hanno fatto due tiri in porta hanno fatto due gol questa partita uguale identica e precisa quella col Verona uguale identica e precisa quella col Verona che avremmo dovuto stravincere stravincere la cosa che ci deve far pensare bene positivo è il fatto che questa squadra gioca 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 crea occasione su occasione su occasione occasione su occasione su occasioni sempre e comunque il Verona l'altro giorno è andato ieri quando è stato l'altro ieri ieri è andato a vincere con la Lazio noi al Verona che abbiamo pareggiato in casa la Bial li abbiamo massacrati massacrati avremmo dovuto fare 10-15 gol occasioni pulite 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 errore sotto la porta rigore sbagli non si capisce questo per dire a voi questa è una squadra che gioca pallone che non è lì per caso quindi la vita finirà non è un castetto da tre perché comunque le cose possono andare storte una volta possono andare storte due volte ma la terza volta avete scusato perché è da perché questa è una squadra che ha la squadra la pesta a sangue sotto la pia la pesta a sangue sotto la pia nonostante tutte le assenze nonostante tutte le assenze voglio vedere io questi 14-15 titolari c'è una vita che non è buona fa la occupa chi non è buona squadra a proposito avete freddo la conto dei rigori la conto dei rigori io ce l'ho tutto a posto di rigore a posto i rigori vi vanno bene c'è se ci si a casa vi tolse non è più 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 a posto la città di rigore vai vai il primo rigore il secondo mi sembrava rigore il primo rigore generoso come quello a Barcellona generoso allora lascio mani di rigore generoso vai fanno bene adesso i rigori o vado a fare la conto a rete l'ho fatto ma non è a fare la conto con un spaccamento sono un bestiale come una bestia un gazzetto come una bestia un gazzetto come un indir e soprattutto che la Milan vi ho detto soprattutto che la Milan che vi facciate la testa prima di romperla pensate a positivo siamo il Milan il Milan mentalità ci vuole mentalità non mi sento un bannucca a scrivere un messaggio così stasera non lo so se ce l'avete questa idea tienitela per te nella voce in desti cazzo catterete la vita tre nella voce in desti ciao a tutti